Succede che torniamo a lavorare, succede che torniamo a 12 anni fa prima di questo euro tragico, la moneta della disoccupazione. Il voto europeo ha sancito la fine dell'euro, sarà una moneta da collezionisti, quindi tenete via qualche monetina perché nell'arco di qualche mese finalmente avremo almeno due monete più giuste per l'economia italiana, per il turismo italiano, per l'agricoltura italiana, per i pensionati, per i mutui, perché con la disoccupazione del mutuo non lo paghi. e quindi sono contento che la Lega sia stata la prima a portare questa battaglia in Italia, che adesso è una battaglia europea.